Si chiama Clandestino, il progetto dell'associazione Antologi è presentato questa mattina al liceo classico Rapisardi di Paternò in un video report agil dramma dei migranti. Eccoci rientrati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, si chiama Clandestino, il progetto dell'associazione Antologi è presentato questa mattina al liceo classico Rapisardi di Paternò in un video report agil dramma dei migranti. Si chiama Clandestino, il progetto dell'associazione Antologi è presentato questa mattina al liceo classico Rapisardi di Paternò in un video report agil dramma dei migranti. Un progetto espletato per conto della regione siciliana, assessorato famiglia, politiche sociali e lavoro nell'ambito dell'APQ Giovani Protagonisti di Sede del Territorio, Creazione Giovani. Noi ci siamo concentrati sulla legalità toccando un tema dell'immigrazione che ha sempre ricordato la Sicilia, la nostra terra, ma negli ultimi anni è diventato proprio di massa, nel senso che mediaticamente è un argomento all'ordine del giorno, ma spesso viene trattato in una maniera diversa da quella come la proponiamo noi, con le testimonianze nude, crude, in questo senso, di chi si imbarca sperando di arrivare, poi ce la fa, ma molti non ce la fanno. Voi avete realizzato un reportaggio, ci sono anche testimonianze dal vivo di migranti che raccontano la loro drammatica situazione. Sì, noi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di incontrare dei ragazzi, perché poi sono nostri coetanei, anche se dal punto di vista della fisicità ne dimostrano molti di più, perché hanno un vissuto molto più pesante dei loro coetanei, diciottenni o ventenni occidentali. Siamo stati nei centri del Siracusano, ad Avola, a Priolo Gargallo e ad Augusto, e poi c'è un gemellaggio, una chicca, una cosa in più, con il centro di accoglienza di Martina Franca, in provincia di Taranto, quindi in Puglia. E lì abbiamo ascoltato dalla loro voce, guardandoli negli occhi, che fanno veramente emozionare i loro racconti di vita. Viviamo questa situazione da anni, ma quanto ancora oggi è importante parlare di immigrazione? È importantissima. La soddisfazione più bella che stiamo avendo, girando in tutte le scuole della Sicilia, tutte le nuove province della nostra isola, è che magari su cento ragazzi, poi solamente tre o quattro prendono la parola, come è logico che sia, però quei tre o quattro ci ringraziano per avergli sottoposto una tematica, una problematica, in una maniera neutrale e soprattutto diversa da come la fanno passare i mass media, come dicevo prima. Alla fine i nostri ragazzi riconoscono che, al di là del video, ci sono dei loro coetanei semplicemente più sfortunati, ma identici a loro. E questa è la cosa bella, che non si soffermano sul colore differente della pelle, ma guardano quello che indicano i loro occhi, le loro labbra e la loro fisicità. Inserita nel progetto anche la poesia La ruota che gira e rigira di Rino Scurria. La ruota gira e vota. La barca tira ritta pinto porto, roppo tantori mari a cielo aperto. Ogni africano ammuccia il suo sconforto, tenendo a mente il suo triste deserto. La barca tocca e vasa la terra antica, gentili e di cultura ma embriaca. Isola sempre aperta, ma è nemica, dell'accoglienza, mari, figlia e naga. La barca si svaganda antiemponenti e a tutti, core e arma, s'arrivota, guardano il mare in cerca di tanta gente. O siciliano, la vita è nella ruota, tu che scopriste l'America accogliente, la barca è astissa e a ruota, gira e vota.